I fantasmi e i misteri di Genova e del suo centro storico sono qui questa mattina sulla nostra panchina ai giardini luzzati Genova Stregata. Invito quindi a prendere posto l'autore di Genova Stregata, Marco Pepe, detto Alex. Prego, prendi posto. Ciao Erika, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, ti lascio appunto. Genova Stregata che ci aiuta a introdurti, ma guidaci tu in questa Genova dei misteri. Allora, Genova Stregata è il mio secondo libro su Genova, il precedente aveva un nome simile Genova Magica, ma è uscito vent'anni fa. Sempre in tema, insomma. Questo diciamo che è un po' un'evoluzione aggiornata di quello che era un tempo, studiato in maniera diversa. Che cos'è Genova Stregata? Genova Stregata è una guida, possiamo definire una guida turistica ai fantasmi della città e dell'entroterra. Tanto per sapere ce n'è uno mica anche qua ai giardini luzzati? Beh, diciamo che ce ne sarà sicuramente tantissimi, ma qua vicino ci sono delle storie legate ai fantasmi. Per esempio, una è legata alla chiesa di San Donato che noi abbiamo qua di fronte, vediamo proprio il campanile, dove pare ci sia lo spirito, anzi lo spettro di Stefano Raggi. Ecco, cerchiamo magari di non disturbarlo con queste incursioni sulla panchina, è uno spirito buono o uno spirito cattivo? Diciamo che non è morto bene, era un arrabbiato in vita, a parte che sono trascorsi secoli e quindi la morte monda di ogni tipo di risentimento. Però in effetti in vita non era un personaggio tranquillo. Quindi un saluto speciale al nostro aspetto, ma torniamo a Genova Stregata perché tu hai anche inventato, lo possiamo dire, il ghost tour. Sì, diciamo che ho preso l'idea del ghost tour dai paesi anglosassoni, lo abbiamo italianizzato, genovesizzato, in una maniera che loro non hanno mai fatto. Quindi secondo me, anzi non secondo me, ma secondo la stampa internazionale, il ghost tour di Genova è uno dei migliori al mondo. E quindi non a caso abbiamo qui chi ha saputo in qualche modo reinventare in salsa genovese questa idea, anche perché possiamo dirlo Marco, ne abbiamo davvero tanti di spiriti e fantasmi. Sì, diciamo che qui ne narro almeno 250. Non sono pochi. Non sono pochi. Credo che ce ne siano anche molti di più, come in tutte le città. L'importante è tirarle fuori queste storie perché sono storie che meritano di essere raccontate. E quindi le trovate qua in questo libro. Noi di solito Marco concludiamo chiedendo un consiglio letterario ai nostri ospiti. A questo punto tu il consiglio letterario lo hai in mano. Genova Stregata, De Ferra editore. Grazie Marco per essere stato con noi. Grazie a tutti gli ascoltatori.